fratello ho appena finito di parlare con l'anto senti niente allora facciamo così io mi vado a vedere bastardi di pizzo falcone non lo so che cos'è questo film me lo vado a vedere però tu mi devi promettere che non devi oltre a mazzare determinati limiti con la suora a meno che non è accondiscendente ok? fammi sta promessa però a cuore mio non esagerare va bene? promettimi questo tasta prima il territorio per bene per bene ok? beh cuore mio io ti auguro una serena notte speriamo speriamo e no per quel fatto che hai detto l'anto che le dici viene sua ramita sto un po' in agitazione va bene e niente ci vediamo domani ok? non ti devi scusare fratello mio sapevo già che eri indaffarato tra sbirciatine e quant'altro senti a proposito per quanto riguarda il fisioterapista va bene fatti fare i massaggi così va via un po' di acido lattico ok? e poi il raffreddore come va? va meglio quello per passare ci vogliono almeno tre giorni si dice nasce pasce e more il raffreddore capito? nasce pasce e more ma bu beh ciao cuore mio a domani buonanotte fratellino buonanotte cuore e un abbraccio se io lo so sto come un tamarro buonanotte ciao fratellino